ha partecipato a vari concorsi televisivi classificandosi terzo, secondo, primo ha partecipato al festival di Sam & San come finalista per lui grandi progetti televisivi e lui, semplicemente lui Christian Marchionno mi alzo e fuori ancora la luna piena esco per toccare la mia terra è un'altra notte da scordare niente che ti fa capire in un silenzio fatto per pregare forte un dolore sale a farmi male è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo insieme tanta povertà e va il mio pensiero se ne va seguendo un dolore che c'è sa in quale cuore andare arriverà e va per la mia età che se ne va e quanto amore via con lei e questa vita che passa e dove andrà rientro piano come fosse un clano lentamente lentamente prendo a disegnare il cerchio rosso del sorriso luce bianca sul mio viso nuovamente pronto a cominciare e va il mio pensiero se ne va seguendo un dolore che c'è sa in quale cuore andare arriverà e va e la mia età che se ne va e quanto amore via con lei e questa vita che passa e dove andrà e la mia vita che passa e dove andrà che passa e dove andrà e la mia vita e la mia vita la mia vita e la mia vita Grazie a tutti.